Per Luigi Golini la soddisfazione di giocare questa partita contro la Fiorentina, peccato per questo risultato o comunque un pareggio che può soddisfare anche perché arriva tra un doppio impegno abbastanza importante? La mentalità di questo gruppo è quella di scendere in campo per provare a fare il massimo del risultato ma bisogna anche essere oggettivi e realisti nel saper giudicare le cose. Penso che oggi sia un buon punto, veniamo da una partita nella quale abbiamo sfuso tantissimo sia a livello nervoso che fisico, abbiamo recuperato bene velocemente, era importantissimo oggi fare una prova nella quale dimostravamo di esserci e così è stato quindi secondo me va bene. Anche perché avete subito gol, avete reagito, avete riportato il risultato sulla parità prima dell'intervallo, questo anche a livello di testa è importante? Sì assolutamente, siamo partiti un po' così, non siamo verti benissimo, la Fiorentina ha trovato qualche spazio e abbiamo preso i gol però dopo come sempre questo gruppo ha dimostrato di essere pieno di risorse, pieno di carattere, siamo riusciti a ribaltarle poi secondo me dopo comunque anche secondo te abbiamo dominato la partita, non era assolutamente facile ma come ho detto eravamo comunque tutti contenti. E adesso c'è questo impegno a Reggio Emilia contro il Borussia Dortmund. Eh sì, siamo tutti carichi, inutile dirlo, non vediamo l'ora di giocare questa partita, sappiamo quanto è importante per noi, per la nostra gente, per tutti i nostri tifosi, è la partita della vita, quindi non vediamo l'ora e siamo tutti molto carichi. Grazie. Grazie. Grazie.